Questo, diciamo così, è la mia vita. Amo questo maschile più della mia vita. Io sono Razzo Luciano, ho iniziato a chiedere a nove anni, e andavo a scuola, quando uscivo dalla scuola andavo da mio nonno, e facevo il sarto, e di lì ho iniziato a imparare il mestiere e tutte queste cose. Sono Pino Luciano, fondatore insieme a mio padre dell'Orazio Luciano. Ho iniziato con mio padre, abbiamo lavorato anche sulla modellistica della giacca e del pantalone, e ho iniziato con mio padre. Ho iniziato con mio padre, abbiamo lavorato anche sulla modellistica della giacca e del pantalone, e quindi abbiamo un po' modernizzato il capo, cioè il reverro un po' più alto, la manica camicia, la manica un po' più affinata, il pantalone con la pants. Ricordo benissimo, me lo spiega sempre mio padre, che praticamente io sono nato in Sartoria. Infatti quando ero bambino mi portava in Sartoria, lui aveva una piccola Sartoria, mi portava in Sartoria e quando era l'ora di dormire, io dormivo sulle balle di tessuto, praticamente. E praticamente era destino che forse vivessi in questo mondo.